Adesso tocca all'altra curatrice di questa giornata, Giovanna Capitelli, anche Giovanna Capitelli non avrebbe certo bisogno di presentazione, ma per i più giovani voglio ricordare che Giovanna insegna da molti anni all'università, prima a Cosenza e ora a Roma, anche Giovanna come Carlo ha cominciato i suoi studi non con l'Ottocento ma studiando il Seicento e in particolar modo invece il Seicento olandese, una specialista di Seicento olandese. Giovanna ha scritto tantissimo, ha fatto pubblicazioni su tantissimi argomenti dall'Ottocento al Seicento, alla storia della critica, all'Ottocento italiano e non solo. Molto brevemente ricordo alcune mostre a cui lei ha partecipato con un ruolo importante, quella ne parlava anche prima Matteo, quella appunto della Maestà di Roma che è stata appunto voluta a San Rapinto, all'inizio con Susinno, Barroero e Mazzocca, ma dove voi due siete state parti importanti di quella mostra che davvero oggi sembra un po' difficile per la sontuosità della presentazione di tutte queste... Tre sedi, tre mila pezzi. Tre mila pezzi. Quindi veramente una cosa su un tema, diciamo, che non era il tema più ovvio e più banale, ma che scaturiva da anni e anni di studi. E poi però, Giovanna ha fatto anche proprio in prima persona altre mostre, tante altre mostre. Penso, ad esempio, a quella che non so quanti di voi hanno visto, perché ad Agiaccio, che è un luogo che non è così facilmente visitabile, una mostra molto bella, Le Peuples de Rome, che hai fatto assieme a Olivier Bonfait, appunto sulla Roma del primo ottocento, e poi nel nel 2018 quella Roma e Mexico e Mexico in Roma, che è una mostra appunto sui rapporti fra Messico e Roma. Questo è un altro dei versanti di studio di Giovanna, che è veramente benemerita nel recuperare tantissime opere dal Brasile al Messico, all'Uruguay, al Cile. La Turchia. La Turchia. C'è questa idea che sfugge giù di come questo ottocento italiano, appunto Carlo ha evocato longhi e fattori, ma questo ottocento italiano negletto, però come ancora questa potenza di diffusione dell'industria artistica italiana toccasse veramente i cinque continenti. E un'impresa meritoria perché fa conoscere tante cose, ma anche perché, e mi leggo di nuovo una cosa che diceva Carlo prima, quest'idea anche della tutela e della salvaguardia, perché queste opere, non neghiamocelo, spesso sono opere a rischio di trascuratezza, di abbandono, di distruzione e quant'altro. E quindi questo è poi, diciamo, curatella di molti volumi, appunto uno legato a questo, Roma fuori di Roma, che tu hai fatto e che è un libro molto importante, ma oltre a questo anche monografie come quella appunto sul mecenatismo pontificio e borbonico alla vigilia dell'Unità d'Italia. E poi recentissimo hai curato, tante volte hai curato dei numeri di rivista, sarai curato per ricerche di storia dell'arte con Serenella Rolfi e poi forse anche con Carla Mazzarelli. Troppe ne fatti, per fortuna che ne hai fatte così tante. E recentissimo, e ti ringrazio, mi hai dato un numero di quaderni storici appena uscito, dedicato a un tema molto, non ottocentesco, ma molto appassionante, la tutela del patrimonio artistico nell'Italia degli anni 70, un tema... Del Novecento. Del Novecento, certo. Andrea Emiliani e Bruno Toscana ci sono dentro. E quindi è una cosa molto, molto importante. Oggi, appunto, in questo canone di quattro artisti abbiamo scelto di occuparci anche di uno non così, diciamo, conosciuto a grande pubblico, cioè come Ludovico Seitz, un artista meraviglioso, come vedremo, e il titolo della tua relazione è Ludovico Seitz e i cantieri dell'arte sacra nell'Italia postunitaria. Grazie Andrea per questa presentazione, anche un po' vergognare. E dunque, Andrea ha già spiegato perché abbiamo scelto questo artista, perché abbiamo scelto della sequenza dei quattro nomi da presentare in forma monografica. In questo corso abbiamo pensato ad un artista come Ludovico Seitz, che molti di voi conoscono per quello che è sicuramente oggi considerato il capolavoro, il mass piece, ossia la decorazione all'interno dei palazzi apostolici vaticani, l'ultima decorazione, diciamo, della stagione dei papi committenti di arte decorativa monumentale e quindi in particolare quello che fece con l'allievo Torti la Galleria dei Candelabri, uno spazio quindi dei musei che oggi appartiene ai musei vaticani, che qualsiasi osservatore, così anche che non conosce la pittura dell'Ottocento, nota per la qualità pittorica e anche per i soggetti iconografici. Per esempio c'è la prima rappresentazione della fotografia dell'arte fotografica, e è curioso che lavorare su questo artista consente, cioè il motivo poi per cui anch'io ho accettato questa proposta che veniva peraltro da Andrea Bacchi, è che questo artista funziona veramente molto bene da cerniera per l'immagine che noi abbiamo dell'artista sacro e in generale dell'arte sacra, prima che l'arte sacra diventa l'arte sacra così come ne parla Celso Costantini nella sua rivista, così come il Novecento, diciamo, trasforma l'arte sacra, cioè, mi spiego meglio. Ludovico Seitz è l'ultimo, se possiamo dire, l'ultimo di una generazione di continuità, di artisti che diventano nella loro vita, perseguono, incarnano il gesto e rispondono a una committenza che li vuole artisti specialisti nella produzione sacra, quindi sacra nel senso soggetto e anche però a destinazione sacra, quindi immaginati per una committenza che è quella della gerarchia, in genere della gerarchia ecclesiastica nelle varie forme. Ludovico Seitz è un pittore di ben tre pontefici, è un pittore che si forma nella corte ancora, la corte di lunga, anche quella postunitaria, fino al 1878 nella corte di Pio IX, nasce nel 1844 e, diciamo, ha i suoi anni più felici all'interno della corte di Leone XIII, ma anche un papa molto attento a trasformare, cioè a superare l'impasse di questo pontificato chiuso a chiave all'interno del Vaticano. Ricordatevi che cosa significa per questi artisti che avevano scelto di essere professionisti dell'arte sacra, che cosa significa per loro l'unità d'Italia, in particolare Roma Capitale, cioè il pontefice prigioniero in Vaticano, come dicono appunto le cronache del tempo. Per molti di loro significa veramente trovarsi senza lavoro, oppure procurare nuove strade. Adesso questo fra poco lo... Quindi, dicevo, terzo papa, che conosce non proprio ancora da papa, perché lui morirà nel 1908 e Pio X. Quindi tre personaggi importantissimi della storia pre- e postunitaria, che ne hanno conoscenza diretta. Tanto da far dire a Raghianti, prima Carlo ha cominciato menzionando Longhi, bene, Ludovico Seitz, Ludwig Seitz, questo è appunto il nome di battesimo, non viene nemmeno menzionato da Longhi, non mi stupisce, però Raghianti, un altro grande studioso della generazione immediatamente successiva a quella di Longhi, lo ricorda come il pittore papalino per eccellenza, proprio per questa vicinanza alle gerarchie pontifice. E detto questo, ci sembrava che fosse un pittore e molti funzionasse da Cerniara anche per un altro motivo, perché comunque un artista che nel 1908, quando muore, viene ricordato dalla critica militante, dal Diego Angeli, che abbiamo appena sentito menzionare dall'intervento di Carlo, quindi da un fiorentino, insomma un uomo della stampa specializzata, però anche diciamo culturale in senso lato, viene considerato il migliore pittore sacro disponibile sulla scena di quegli anni. Quindi un riconoscimento che arriva prestissimo, arriva subito, e non arriva soltanto appunto dalla parte della committenza, ma arriva anche dal mondo cosiddetto laico. E voglio dirvi qualcosa a proposito di questa lunga durata, cioè di questa figura che riassume la lunga durata di un modo di fare pittura, di un modo di impegnarsi proprio nell'arte sacra. E non posso far a meno di ricordare che Ludovico Seitz, dato a Roma, ma figlio di tedeschi provenienti da Berlino, suo padre era appunto un pittore abbastanza di qualità, anche lui, Alexander Maximilian Seitz, che aveva, si era formato appunto a Berlino con Peter Cornelius insieme a Johann Friedrich Huberbeck, erano i due grandi diciamo continuatori del movimento nazareno, che non è solo limitato, questo molti di voi lo sanno già, alla semplice parentesi del convento di Sant'Isidoro, cioè il momento della secessione in cui un gruppo d'artisti provenienti dalla Germania occupano un convento romano, quello di Sant'Isidoro appunto, e dipingono alla maniera degli antichi, producendo diciamo un tipo di pittura che ricorda quella di cui ispiravano le azioni, le gesta di Wackerroder, quindi quel mondo lì di ripresa di un modello dell'artista che dipinge, che fa icone e nel contempo trova in questa occupazione di produrre immagini sacre il modo più vicino di essere di essere vicino alla fede, quindi si avvicina all'arte riprendendo tutti i canoni che sono quelli diciamo della pittura prima dell'ultimo Raffaello, per capirci, prima del Raffaello delle stanze. Ecco, questa cultura da Zarela è una cultura che permane, che dura, che è molto durevole e come il pre-Raffaellitismo in qualche modo conosce ben tre generazioni, tre ondate. Alexander Maximilian Seitz, che è appunto il papà di Ludovico Seitz, appartiene proprio a questa seconda generazione e si trasferisce a Roma nel 1833 da Berlino appunto ed entra dentro l'atelier di Palazzo Scenci al tempo di Johann Friedrich Overbeck e con lui collabora in moltissimi cantieri ed è quindi proprio con Overbeck che questo giovane Ludovico Seitz comincia a muovere i suoi passi per cui lo troviamo non attraverso non lo troviamo subito affiliato a un'istituzione accademica come ci saremmo potuti aspettare da un giovane negli anni 50 l'accademia era veramente nel suo grado massimo di espansione no noi lo troviamo invece lavorare all'interno di questa bottega di Johann Friedrich Overbeck e collabora per esempio qui siamo già negli anni 60 quindi quasi ventenne anzi in questo caso proprio ventenne collabora con un'impresa importantissima che Pio Nono l'ultimo papare come sapete stava cercando di finanziare anche proprio per quell'idea di sostentamento delle arti che somiglia un po' al concorso Ricasoli per Pio Nono Pio Nono forse qualcuno di voi già lo sa investe delle somme incredibili a pensare allo stato delle finanze della sua chiesa cioè finanzia tutto l'obolo di San Pietro lo investe in larghissima parte lo investe per proteggere le arti e per promuovere quegli artisti e non permettere loro di lasciare diciamo la città e tra questi artisti che ovviamente vengono protetti c'è Johann Friedrich Hovebek e che proprio per il Vaticano lavorerà questi bellissimi cartoni d'arazzo che qui vedete purtroppo una foto un po' virata in verde dovete immaginarli più azzurrini che verdastri e che serie che oggi si trova alla Pinacoteca Vaticana che era in condizioni di conservazione molto diciamo deplorevoli e che proprio in questo momento gli amici dei Musei Vaticani stanno facendo restaurare quindi una buona notizia per questi fantastici cartoni in questi cartoni specialmente negli elementi decorativi in questa sorta di predelle che dovevano corrispondere appunto alla parte della borderie degli arazzi proprio in queste zone troviamo la mano sicura del giovane Seitz e così per immaginare che cosa stava facendo in quegli anni Johann Friedrich Hovebeck il nazareno che persisteva in questa battaglia per una pittura purista nazarena che come vedete si apre anche ai modelli raffaelleschi questo dipinto un dipinto che non sarebbe possibile senza pensare ai cartoni degli arazzi di Raffaello stesso quindi anche la questione del nazarenismo come viene raccontata ancora oggi sui manuali a proposito della Zanichelli è una questione totalmente sbagliata una cosa il nazarenismo della prima generazione di quei tre anni proprio tre quattro anni prima che muoia Forn poverino e quindi c'è quel momento d'oro come il 1508 1512 per l'arte moderna così quelli sono gli anni della grande cultura nazarena i primissimi anni tra 1809 e 1812 e così dipinge quindi Overbeck e questa è la replica del grande dipinto sempre realizzato per Pionono per spiegarvi come si tratta di opere anche di grande scala di grande formato opere che hanno in sé anche dei significati questa in particolare dei significati di tipo politico cioè l'attacco di Cristo i farisei in questo caso sono gli uomini della grande del risorgimento che attaccano diciamo il potere il potere centrale cioè il papa e Alexander Maximilian Seitz sceglie delle strade proprio espressive che somigliano moltissimo a quelle del nuovo maestro di Overbeck e lo troviamo negli anni 60 persino in una sorta di revival neomedievalistici anche nell'iconografia meno nella forma con questa enorme pala d'altare che adesso questa enorme scusate celebrazione del pontificato di Pionono in cui appunto abbiamo la figura lo capite bene di Pietro in mandorla circondato dagli strumenti della passione e con le virtù teologali che accompagnano l'arrivo di Pionono e sotto fra i reprobi appunto gli uomini della rivoluzione e fra invece i salvi una barca che ovviamente è la navicella la rappresentazione della chiesa di Cristo sono dipinti quindi molto molto affascinanti però anche lontanissimi se pensate che qui siamo nel 1867 cioè l'anno dell'esposizione universale di Parigi è chiaro che sentite come questa è una cultura diciamo antimoderna in senso proprio stretto è una cultura figurativa che cerca di offrire nuovi paradigmi di antimodernità che pescano però nel passato che in modo incredibile lavorano sulle precedenti testimonianze figurative vedete c'è anche una certa qualità esecutiva è proprio questo il mondo che accompagna le prime prove di Ludovico Seitz il quale curiosamente proprio a questa data nel 67 immaginate battaglia di Mentana pensate veramente Roma è ormai la capitale di un grande quello che dice un grande storico che parla molto della gioventù e sì Falconi che ha provato a raccontare la storia di Roma in un bellissimo libro sul cardinale Antonelli Roma in quel momento è come un nano con la testa di gigante e fuori quindi immaginatevi la testa di gigante è Roma e quindi il resto del corpo non c'è e in quella data pensate Seitz si iscrive all'Accademia di San Luca quindi ormai è grande questo è anche un po' per certi versi bizzarro e si iscrive all'Accademia di San Luca però vedete la prova che noi abbiamo una prova di concorso per il disegno che rappresenta Cristo nell'Orto degli Olivi la preghiera nell'Orto degli Olivi utilizza praticamente un modello che è preso da una prova grafica di Overbeck di circa 15 anni prima quindi capite bene che stiamo parlando di una di una cultura di squadra scusate ecco ora sempre per finire chiudere la cornice che cercavo di con la quale cercavo di cominciare questo discorso sono proprio gli anni 50 possiamo dire dell'Ottocento che nella critica vedono emergere questa categoria che prima non veniva proprio utilizzata la maggior parte dei pittori di storia eventualmente faceva pittura a soggetto e destinazione sacra e invece proprio negli anni 50 dell'Ottocento troviamo per la prima volta la categoria nella critica dell'Ecclesiastica l'art se la troviamo in luoghi lontani lo troviamo per esempio in Irlanda questo è un passaggio di una recensione di alcuni dipinti che appunto Pietro Gagliardi un altro dei pittori sacri to cure non credo che abbia realizzato neanche un dipinto di storia che non sia a soggetto sacro e Pietro Gagliardi viene menzionato come tale ecclesiastical artist una nuova dimensione un nuovo genere se vogliamo che prima invece entrava all'interno della pittura di storia e non si discuteva alcuni di questi pittori sono pittori di grande capacità anche abilità tecnica in particolare Pietro Gagliardi è un pittore frescante straordinario sono sue centinaia di metri quadrati di decorazioni nelle chiese romane realizzate tra gli anni 50 e gli anni 80 e la stessa cosa vi faccio vedere solo tre artisti per farvi capire quali sono i competitors di Ludwig Saito anche qui per darvi un pochino di contesto come vedete linguaggi pittorici anche molto diversi quello di di Gagliardi che lì avete visto a San Gerolamo dei Croati il suo capolavoro qui vi faccio vedere Cesare Mariani in un dipinto in una grande nell'abside della chiesa di Santa Lucia del Gunfalone un dipinto di grandissima anche qui un cantiere decorativo all'affresco un affresco perfetto senza nessuna ridipintura a secco mentre invece poi vedremo che Saito non sarà così padrone della tecnica e lavorerà moltissimo a secco anzi userà l'a secco per creare questi effetti di doratura che sono così importanti per la sua visione e vado avanti perché ancora non vi ho fatto vedere quasi niente di lui ecco oppure ancora un altro competitor importante per Saito è Francesco Grandi anche lui pittore a fresco di grande sensibilità e anche lui specialista di arte sacra e ecco per darvi un po' l'idea di che cosa succede per tutto questo giro di artisti che si trovano senza lavoro negli anni 70 vi basti menzionare questo indirizzo firmato da ben 200 artisti tedeschi quindi stiamo parlando di un numero eccezionale guidato da appunto Francesco von Roden che era davvero un po' come Ludwig Sykes anche lui era allievo del grande paesista Johann Martin von Roden quindi sono dei tedeschi romanizzati che si rivolgono al pontefice per chiedere una mano per chiedere un intervento il pontefice non può far niente ma per dire più nono dalla prigionia del Vaticano scrive molto volentieri dalla mia benedizione ai buoni e valenti artisti della Germania che ben se la meritano continuino a mantenere alto il pregio dell'arte con l'informarsi vedete un papa che parla di stile con l'informarsi alle ispirazioni del beato angelico da Fiesole la cui imitazione è più sicura poiché fu tal pittore che dopo aver edificato il mondo col suo puro e sublime pennello meritò di andare a seder glorioso nel cielo dove avea tratto le sue nobili immaginazioni il gran Raffaello tenne anche egli la stessa via da principio da principio capite questa è proprio una belina scritta da qualcuno di loro per avere la risposta e dire al mondo capolavori bellissimi eccetera eccetera lo potete leggere anche voi ecco appunto come come conosciamo il primo sites acquisito dalla grande committenza io vi avevo promesso nel titolo di parlare di cantiere italiani alla fine mi trovo invece più comodo parlarvi di due cantiere uno straniero ma italianissimo cioè gestito da artisti appunto provenienti da Roma vicini proprio anche al pontificato che è il cantiere di Dacovo Dacovo o Diacovar o Giacovar come volete è un piccolo paese della Croazia che però ha la fortuna di avere una diocesi di avere un un vescovo particolarmente volitivo che già dagli anni sessanta proprio per tributare onore ad un millenario dei santi Cirillo e Metodio che appunto sono protettori come sapete della nazione slava decide di costruire una grande enorme un enorme cattedrale a Dacovo e per farlo chiama artisti appunto decoratori romani e tra questi naturalmente Overbeck che però non ci va ma manda invece i suoi continuatori appunto Maximilian Alexander Seitz e Ludovico Seitz che appunto ancora è giovane è un cantiere che dura quasi 15 anni e sappiamo che l'incontro fra questo straordinario vescovo vescovo Jurip Strossmayer e Seitz avviene quando il giovane Seitz è molto giovane infatti già nel 1862 li compra questo dipinto vedete purtroppo la foto è terribile ma è difficilissimo avere le foto di queste opere ve l'assicuro è proprio battaglie lunghissime quindi alcune di queste non ce l'ho questo dipinto che come vedete mostra un pittore curiosamente interessato sembra quasi una copia ma non lo è un pittore interessato alla pittura lombarda e a proposito lombarda del primo cinquecento e questo gusto per le tradizioni rinascimentali più diverse per il medioevo il medioevo della cappella Bolognini di Bologna di San Petrone oppure del castello della Manta di Saluzzo o di altri luoghi reconditi è tutto documentato dal fatto che noi possediamo anzi purtroppo non si possono vedere ma esistono ancora ben sette tacquini che ha studiato Ilaria Cuppini molti anni fa ma che oggi la mia lotta per trovarli per finalmente arrivare ai proprietari è stata dura ma non l'ho vinta e vi farò vedere però fra poco qualche foto e quindi questi tacquini ci conducono con lui nei viaggi che Ludovico Saits fece lungo tutto il paese anche tra l'altro all'estero tra il 1867 e il 1906 quindi abbiamo come dire il bagaglio culturale che questi tacquini restituiscono ci offrono delle chiavi importantissime per capire poi la costruzione del suo personale stile perché effettivamente è uno stile è uno stile di mimesi e messi io non voglio usare la parola eclettismo perché non è corretta è un artista che lavora sul strato storico coglie elementi e di volta in volta a secondo della committenza e questo è un aspetto molto importante tra poco vi permetterò di vederlo e attraverso la committenza riesce a come dire offrire il prodotto che con la committenza si decide di raggiungere e questa vicenda della costruzione e della decorazione in particolare della cattedrale di Dacovo vede anche la partecipazione di un grandissimo artista il Raffaello dell'Ottocento Nicola Conzoni che manda lì però con troppo ritardo e quindi come dire perde l'occasione mentre Overbeck manda immediatamente i suoi allievi a lavorare a fresco ora vi faccio vedere le opere scusate ecco per farvi capire mentre come sapete per fare l'affresco bisogna trasferirsi quindi portare i cartoni preparare tutto prima per terra e poi salire sui ponteggi e montarli monteggi che durano come dicevo numerosi anni perché la decorazione appunto i metri quadri da decorare sono moltissimi ecco quando avete questa serie di affreschi sull'attico riuscite a capire l'importanza di questa decorazione e vi faccio vedere appunto da vicino qualcuno e credo che questa vicenda che vede i sites insieme ai consoni quindi da un lato la cultura nazarena ormai di seconda terza generazione dall'altra il nuovo Raffaello cioè Nicola Consona a Diacova è un altro degli episodi affascinantissimi di quella Roma fuori di Roma di cui parlavamo prima scusate sono andata troppo di cui prima parlava di cui parlava prima Andrea Bacchi ossia di una vera e proprio vero e proprio fenomeno di esportazione a cui Roma resta un grande distretto di produzione di pali d'altare realizzati da questi pittori di cui vi ho parlato ma anche da molti altri anche minorissimi penso a Pasqualoni Emilio Sereni scusate Sereni Enrico Sereni Brugnone De Rossi che vedete qui in un dettaglio che partono negli anni dopo l'unità d'Italia soprattutto dopo Roma capitale e conquistano moltissimi sì oddio sono moltissimi vado avanti ecco leggete la citazione da Susinno perché è un progetto insomma che parte da lui e ci tengo allora dicevamo in questa in questa cattedrale il vescovo sviluppa utilizza quest'arte monumentale quest'arte sacra anche come un presidio di arte unitaria e perché il progetto che sta cercando di mettere a fuoco e l'arte gli serve in questo senso è una sorta di 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 nuova immagine dei paesi slavi religiosi cristiani uniti nel nome di questa cattedrale di Giacobar quindi dell'adorazione dei pastori realizzata da Saitz trovate appunto un croato i pastori sono un croato una donna della Dalmazia un bulgaro una slovena un serbo vedete sono tutti rappresentati con i costumi locali quindi Saitz i due Saitz in particolare qui abbiamo Ludovico vedete la freschezza del pennello molto insomma questa grande capacità di gestione della forma che si mette a servizio di un sogno nazionalista di un vescovo come Strossmayr guardate questi riquadri sono tutti Ludovico Saitz sono storie appunto questa è la natività sono tutte storie di Cristo e della Vergine e qui vedete che ci sono modelli di volta in volta suggeriti questo per esempio è un modello di natura dureriana ci si avvicina ci sono vere e proprie citazioni dalle incisioni di Dürer oppure vedete esempi come questo in cui anche gli elementi architettonici sono raccontati con la massima raffinatezza dobbiamo ricordare che Saitz si forma alla Canessa Luca anche con l'architetto Cipolla quindi come dire ha un'impostazione architettonica molto forte vado avanti ecco adesso vi mostrerò una serie di cantieri molto velocemente per farvi capire come Saitz sia capace di modellare il suo stile a seconda dei contesti in cui si trova il caso di San Geronimo in preghiera e Alessandro Dallens della Cappella della Raceri è abbastanza impressionante sono dipinti che sfido qualcuno a riconoscere con ottocenteschi perché hanno un sapore specialmente il San Geronimo incredibilmente di un classicismo degli anni 20-30 del 600 oppure vi mostro l'interesse che ha in una delle commissioni forse più importanti della sua vita all'interno della Chiesa dei Tedeschi della Nazione tedesca Santa Maria dell'Anima vi faccio vedere l'unica foto decente che ho e qui abbiamo persino una rilettura della palla della vallicella del laterale della palla della vallicella di Rubens e quindi una pittura che si fa invece profondamente interessata agli aspetti della luce della materia da vicino si vede ancora meglio cambia completamente il modo di dipingere oppure Santivo dei Bretoni affascinantissimo un cantiere del 1880 qui per il Cristo in Mandorla questa chiesa la seconda chiesa della Nazione francese come vedete sono tutte congregazioni e chiese nazionali che hanno i soldi raccolgono i soldi per avere artisti che possano decorare i loro spazi e qui persino il Cristo nella Mandorla somiglia moltissimo a quello della chiesa della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Antonio Nazio Romano quindi vedete un repertorio veramente molto vario oppure questo caso stupendo che hanno studiato molto bene anche Antonella e una mia collega Antonella Ballardin della cappella di Pio IX in San Lorenzo fuori le mura la cui documentazione è tutta e chi è di Bologna veramente la vado a vedere eccezionale è nell'archivio a quaterni dentro l'archivio a Ciescovilla di Bologna dove ci sono lettere bozzetti di Saitz c'è un materiale incredibile per ricostruire un cantiere di arte sacra dove il tema è la cultura bizantina e quindi a questa cultura bizantina per rispondere a Raffaele Cattaneo che è l'architetto che viene chiamato per portare Bisanzio in questa chiesa che aveva appunto come sapete una fondazione bizantina Saitz si presta anche a questa inventando allegorie molto affascinanti come l'omaggio delle nazioni a Pio IX oppure l'omaggio dell'episcopato a Pio IX sono tutti ritratti perfettamente distinguibili dei vari personaggi all'interno oppure guardate che cosa buffa qui sempre in questa cappella di Pio IX sapete che Pio IX è l'unico papa che non è sepolto all'interno papa moderno che non è sepolto all'interno della Basile di San Pietro ma ha scelto invece di essere sepolto il suo quindi c'è stata una traslazione a San Lorenzo fuori le mura nella Basile e qui abbiamo il patrono vedete in forma bizantina neobizantina San Francesco e Santa Chiara capite bene che non può funzionare e San Giuseppe che è appunto il santo patrono molto caro alle politiche e all'iconografia solo per farvi vedere i taccini e i cuaroni la figlia di Ludovico Saitz sposò il padre di sposò scusate sposò Ludovico Cuaroni celebra un architetto quindi una parte di questi taccuini sono ancora in mano a questa famiglia e vi faccio vedere tra i disegni vedete anche dal punto di vista grafico nella trascrizione copia di opere usa degli stili che in qualche modo sono mimetici rispetto al modello di partenza e questo vi dice che la dice molto lunga anche sul rapporto storia dell'arte e produzione artistica nel caso di un artista come questo oppure ecco va anche a vedere per dirvi gli affreschi dell'oratorio di San Giovanni di Urbino perché gli interessano le decorazioni che poi utilizzerà a Loreto quindi in un modo non troppo lontano vado a chiudere dicendo che la sua capolavoro fu certamente la cappella sempre dei tedeschi il tema tedeschi quindi come fonte principale di committenze certamente forte e quando a Loreto si decise di lavorare sulla ricostruzione dell'intera basilica lui venne scelto proprio all'ultimo minuto sui monaci benedettivi di Boiron che erano la scuola artistica di arte sacra che in qualche modo rappresentava dal punto di vista internazionale una vera e propria come posso dire competizione con il mondo romano cioè a Boiron stavano immaginando un tipo d'arte sacra fatta da monaci benedettini quindi in prima e che utilizzasse modelli romanici in particolar modo quindi un'arte senza identità un'arte sempre più lontana da forme stilistiche riconoscibili un'arte come dire impoverita di tutti gli strumenti stilistici complessi e in questo caso vado a chiudere proprio a Loreto per fortuna viene scelto Ludovico Saiz e qui gli viene chiesto l'architetto è Sacconi c'è una commissione sia ministeriale per la ricostruzione della Basilica di Loreto e contemporaneamente legata al vero e proprio santuario quindi esistono come due gruppi che scelgono comunque Saiz Sacconi è dalla parte sua lo stile che viene scelto dall'architetto è quello appunto lo stile veneziano e quindi ovviamente Saiz è l'artista più adatto per lavorare su questo tema vabbè su questo devo andare più veloce e vi faccio vedere appunto questa epopee mariana così viene descritta dallo stesso Papa Leone XIII che riceve i bozzetti quindi in qualche modo ha la possibilità di vedere questo lavoro all'inizio questo è lo schema generale sotto vedete gli Zavattari a Monza per farvi capire come anche diciamo l'impianto d'insieme vuole essere neo medievaleggiante neo direi trecentesco e questi sono gli affreschi queste sono le storie della Vergine l'incontro alla porta aurea l'annunciazione come potete forse capire ognuno di questi modelli questa è la Pentecoste che poi è la giornata di oggi mi sa che mi chiudo qui con la Pentecoste la discesa dello Spirito Santo e qui i modelli vedete vengono dalla cultura di Ardofer quindi anche qui riesce a mettere insieme questa grande versatilità questa grande elasticità e questo amore però guardate i dettagli se voi vi soffermate solo sull'impianto architettonico se noi vedessimo solo la parte dei capitelli potremmo anche pensarlo veramente un prodotto del gotico internazionale e poi invece guardando il resto ci troviamo davanti a forme molto diverse ecco chiudiamo con l'adorazione dei magi oppure questa è una storia molto molto bella di San Giovanni ecco naturalmente queste vicende vengono tutte accompagnate da polemiche molto forti che vedono appunto vi dicevo già ve lo anticipavo una sorta di dicotomia tra la scuola di Boyron e l'arte sacra alla maniera diciamo nazarena ma comunque ancora tardoromana e su questo tema vi lascerei grazie grazie grazie